Il Piazza Non lo so, non si mette qui, non si mette giù Si prende... come vuoi, come preferisci forse l'asa è più tranquilla però fatto scusa buonasera quanto deve avanzare un po' sì mi piace più però è la stessa eccellenza buonasera buonasera guardia San Framondi quando si capita di 7 anni della protezione dei flagellanti che sanguiano è talmente violenta che calano 7 anni sono 27 io sono di Zagliano che ne ho viste 4 che ne ho la comunità cioè ne vedi tante persone così che si suaggevano per 7 anni sicuramente è una delle più pagane della violenza tanto che gli antropologi sono l'etudiata e questa è potentissima però questo deve fare campone ma che mandano la socia qualcuno ci manda la socia che si suaggevano che si suaggevano che si suaggevano Grazie a tutti Grazie a tutti Eccellenza, il messaggio Eccoci qua Allora Microfono Un altro parlante? Ce l'avete? Eccoci qua Sposta un attimo, scusami Sposta un attimo, vai qui dentro Non vedo niente questa cosa Con lettura del messaggio Inserito Nella fiaccola Che da Piazza San Pietro Questa mattina Dopo la benedizione Dopo l'accensione Il Papa la benedetta mercoledì E La fiaccola conteneva questo messaggio Che tutti possono aver sentito Dal telegiornale di mercoledì Papa Francesco Invia tramite il pastore della chiesa di Viterbo Monsignor Lino Fumagalli Il suo saluto E l'apostolica benedizione Alla città Ai Viterbesi In occasione del trasporto della macchina E per la festa In onore di Santa Rosa Questa benedizione L'ho impartita Ai pacchini e alla città Pochi minuti fa Al termine del Nostro momento di preghiera E la estendo veramente A tutti i Viterbesi Con un particolare Ricordo ed attenzione Ai nostri malati A tutti coloro Che non possono seguire Questo trasporto E possono vederlo solo Attraverso la televisione Grazie al Santo Padre A cui ho assicurato La nostra preghiera E grazie al Santo Padre Per la preghiera Che ha assicurato Per tutta la città di Viterbo E viva Evviva Francesco Evviva 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 Grazie. 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 Facciamolo un pochino da parte. Grazie. Allora. Pegliamo quel faro là per favore. Spegnete quel faro. Quel faro per favore me lo spegnete? Spegniamo le luci. Le luci. Spegniamo, spegniamo, spegniamo. Anzi, vamo. Spegniamo. Spegniamo, vabbè. Vieni. Vieni. Non lo so, dove si fanno? Com'è giusto? C'è il muro. Ne intiene pure 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 pure. Sìi. Andiamo giusto. Andiamo giusto. Andiamo giusto. Vi capisco, stessi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aggiuntiva sinistra, sotto. È uguale, è uguale. Da davanti fa la sinistra. Aggiuntiva destra, sotto. Fissa sinistra, sotto. Fissa destra, sotto. E davanti. Davanti, 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 davanti. Ciuffi di Santa Rosa, a capezzare ciuffo. Terima fila, sotto. Testa fila, sotto. Quinta fila, sotto. Quarta fila, sotto. Testa fila, sotto. Seconda fila, sotto. Prima fila, sotto. Testa anteriori, sotto. Testa fila, sotto. Testa fila, sotto. Vавuti, davanti. Divanti. Grazie. 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 Grazie! 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 Mario! Mario! Piano! 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 Sattarosa fuori! Piano! 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 Viva Santa Rosa! Viva Santa Rosa! Viva Santa Rosa! Viva Santa Rosa! Grazie 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 Grazie. Io l'ho visto lui. Grazie. 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 Bravi. Adesso abbiamo girato, noi giriamo. Noi nào niente, cazzo, cazzo! Stiamo ladro. Tiriamo. Le hans, piazzja. Piano, vai, 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 vai. Gira, piano. Vai, vai, così. Garzaaaaa! Piano, 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 teni così, teni, forti non letti, boni, go, quanto ci vuole, calate, piano, piano giù, cala, 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 fermi così, prendiamo piatto, fermi, è tutto a posto, prendiamo piatto, a posto Sandro, perché dobbiamo gridare, sono state grandi, grazie, grazie a teatro, vivono nelle storie anche voi. Grazie, grazie, molto gentile, indietro, 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 entro le pate le stesse. E' viva Santa Rosa! E' viva! Santa Rosa fuori! Grazie, grazie. Presidente, presidente, grande, 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 grande. Anduvà vieni qua! Anduvà vieni qua! Con questo! E' un capo che è pieno! E' un primo! Dei leoni! Dei leoni! Ma la schiocchettata! Che dici Fiorello? Bravi, bravi! No, seremo grandi! Insuperabili! Grazie! Grande amico! Grande amico! Grande amico! Grande amico! Come si tiene? Una lenta! Grande amico! Grande amico! Grande amico! Grande amico! Buongiorno! Grande amico! Un attimo di spazio! Bellissimo! grazie 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 passalo la squadra l'equipe da mio faccio al costruttore al costruttore al ideatore a tutti quanti la festa e tutti gli permessi da domani ci conosci massimo la vita è più rillo la vita è più rillo ma non è la vita ci aspettiamo che il pitaccio di conno che il merito abbia tutto quello che il segno è buono forza fortuna grazie 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 бу ho vittorio buona vittorio dai vittorio inserisciene un pitcher e bon Siamo guadagnati la pancre. Siamo guadagnati, si siamo guadagnati. Allora, stiamo appalt incluendo, non passa mai un'altra parte. Si siamo guadagnati. Siamo guadagnati la pancre. Sandro! E tu c'è una ragazza? Sandro! Sanarlo! Sandro! Arrivo! bravo 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 sindaco basta però Sandro guarda la doccetta no si è sporcata tutta la macchina è un po' che ci succede no abbiamo andato allora tutti il l'amico mio l'amico domani vino e poi di me sono finiti? vediamo un po' complimenti all'ingegnere, tanto se non lo sta dritta se non lo sta dritta ci vediamo domani ragazzi il trionfo di una macchina sta sempre in mezzo col pomidone andiamo a saluta Sandro il nostro grande Sandro grazie di tutto sono tutti pratici ehi, va a vedere grandi comune poi ti manderò sempre io e sempre io di voi bella vieni qua bellissima di voi veramente tanto e io ho rispettato l'ho fatta tutta da dietro stava pure una poppa tutta da dietro forza vai hai visto che abbiamo fatto la ciorba? le battezzate le battezzate le vedo? e sono rinato no? bene bravo, dai io sono in prima posizione ma io so veramente tanto curioso si 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 no comunque ero rimasto da sola non c'è non c'è perché io l'ho fatta Sandro non c'avevo il passo e io l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta ci vediamo finita questi ragazzi il fatto che ci hanno fatto l'hanno spazionato non sono stato saluto no e no perché appena abbiamo boccato noi massimo c'era una richiesta tanto no? no vediamo una richiesta, si vediamo una richiesta, si c'era una richiesta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta l'ho fatta il poteco Siamo una squadra bellissima. Siamo una squadra bellissima. Siamo una squadra bellissima. Siamo una squadra.